bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove vedremo cosa avremo nel nostro corpo e la cosa mi sembra abbastanza inquietante perché ci sono anche gli intestini e sapete cosa? meglio non dirlo e cominciamo qui si è tutto ecco ragazzi questa sapete cos'è? questa è la popò che si potrebbe chiamare anche in un modo più volgare però meglio non dirlo in questo modo più volgare qui ci sono le nostre ossa per vedere come coloriamo ah giusto ragazzi ricordate di iscrivervi al canale e commentare per essere salutati nei video perché questo è il mio primo video quindi non posso salutare qualcuno veramente il mio primo video qui come notiamo ma di cosa si parla lì Davide? al pomano si però proprio in quella pagina leggi su cosa si scrive i muscoli i muscoli bravo mamma mia però quando ce ne sono di muscoli oh cuore 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 mio e cos'è lì? polmoni e cosa fai con i polmoni? questo cosa ti sembra? dimmi tu espirare bravo ah e poi non si dice dimmi tu si dice dimmelo tu dimmelo tu hai ragione Titi ragazzi scusate mia madre ma è moldava quindi non parla molto bene l'italiano veramente oggi sto giudicando oh ti capisco amore apri dall'altra parte amore non così dai indietro guarda e di là giù ah no scuso ho sbagliato io ecco era qua bravo il nostro pippo il nostro pippo ragazzi è così brutto da questo libro cioè non vi faccio vedere com'è il mio perché quello piano se non lo rompi ragazzi allora prima siamo così poi così poi cosììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì guarda i sopraccigliati gli occhi dove siete? non cresciamo siamo i capelli non tagliateci siamo ricresciuti non tagliateci raga questo sono io raga questo sono io quando? quando ero nella tua panza poi quando era il mio compleanno sono persiuto e sono diventato così poi quando è venuto il mio compleanno di nuovo sono diventato così poi quando ero rivenuto sono diventato così e poi finalmente sono diventato bambino questo testardino è di bambino lo sai di cosa si parla qua? leggi su crescita e? e invecchiamento di cosa hai tu? paura perché hai paura? non voglio andare nella toma racconti cosa è successo quando è stato il tuo compleanno? come ti sei svegliato? arrabbiato perché? perché non volevi invecchiare ed è finito il libro saluti ci vediamo al prossimo video che sarebbe il mio secondo video ma ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.